Musica Verdad desnudo den Perspectiva Buon'oci, mio amico televidente Sacco il nostro segmento con Perspectiva Pasi comunicazione, scriviamoci a epitron.gmail.com Llamo al telefono 5939392 5848276 Danke di antemano pa' nos comunicazione Verdad desnudo Cristo ta' Dios Nandi ku Cristo ta' Dios Un'ende E' Palabra Abiracarni E' Abibamei Hende Hende Juan 522 Te dice Sine Ghi Etata Nota Luzga Nuende Pero A entrega Luzga Mento Tampoco Di Verdad Di Verdad Mi te dice Bo Sesungo Tende Mi Palabra E Quere Desun Comandami Ese Ten Vida Eterna E Nota Vigna Condenacion Ma Apasa Fui Muerto De Vida Ta Palabra Ku Qualquer Gende Lopo Papia Jesus Papia Bo Que Men Ora Jesus Igual Quanta Ora Dios Tata Kike Siete Indicano Nos E Verdad Desnudo Ta Ku Jesus Dios Según Escritura A Ojo Si Bo No Por Comprende Como Ta Kere Como Ta Kere Bo Ta Vai Rechace Pa Sobra Bo Cabez Chiquito No Por Comprende E E Cho Bo No Ta Comprende No Quir Men Ku Jesus No Porta Dios Ta A Bo No Por Comprende Lo Que Abono Por No Ta Dez Asi Algo Kuta Kuta Ata Boto Usa Tablet Tablet Nang Boto Usa Smartphone Pesta Vida Le Pasa Screen E Tu Recon Subi Internet Tap 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 chick High To Comprende No non lo comprenderò che sta succedendo. Non lo comprenderò. Non lo comprenderò. Non lo comprenderò. Però non lo comprenderò. Un va comprare un altro. Un iPhone va impenderò. Però non lo comprenderò. Non lo comprenderò. Quindi, con Gesù, dios, la parola moderna, la verità desnuda. Verità, absoluta. Take it or leave it. La scrittura sta sinne. Gesù sta dios, è il unico salvador. E senza Gesù, non c'è altro. E senza Gesù, lo va a perdere un candidato per fiare. E dios non vuole essere. Comunicazione. Telefon 5940541. 5940541. 5940541. Pastor Frederick Kelly. Teotro Viaja. Perspectiva. . . . Grazie per la visione!